ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale come va spero che state bene si trascorrendo una splendida giornata oggi dopo tanto tempo vi porto un grandissimo ospite sul canale che io apprezzo sia come content creator che anche come persona stiamo parlando ovviamente di colpo gobbo inutile che ve lo presenti ciao lello ciao ciao davor come va tutto bene a parte il caldo ma esaltato da questo calciomercato che ancora più cocente ancora più caldo e quindi viviamo nei 50 gradi 60 gradi saariani ovviamente in questo video andremo a parlare un pochino ovviamente ci concedere un po sulla juventus perché dopo tanto tempo dopo le annate insomma di sei di pirlo e dopo il periodo post covid il periodo del covid i tifosi juventini e la juventus in generale sta vivendo un mercato che è partito a bomba anticipato dal discorso dei mondiali in catar quindi molte trattative sono partite prima alcune delle quali se ne parlava già a gennaio 2022 quindi un pochino adesso si stanno assestando le cose e quindi andremo a affrontare io col mitico lello un pochino di tematiche riguardo la juventus e ti dico eh la prima della quale volevo parlare che non si poteva essere quelle insomma gli imminenti arrivi e visite mediche di di maria e di pogba dimmi un pochino tu per diciamo i miei scritti che sicuramente conosceranno sempre conosciuto tu che io voglio dire quindi inutile che ti presento come è vissuto questo periodo di trattativa allora intanto su pogba è stata quasi una roba tranquilla nel senso che arrivavano conferme c'era tanta fiducia la cosa che ci ha fatto un po' tribolare credo a noi tutti è di maria l'arrivo di di maria eravamo spazientiti nel finale perché per come ce l'hanno raccontata si parlava di passi in avanti passi indietro passi in avanti passi indietro alla fine c'eravamo quasi arresi ad un suo potenziale arrivo alla juventus quindi ti dico quella è quella che mi ha fatto tribolare su pogba invece era abbastanza sereno e tranquillo anche perché la situazione in casa psg vi ricordo non so se si ricordano i ragazzi ma c'è c'è stato quel cambio leonardo con campos c'era una situazione particolare e là la juventus ha affondato completamente il colpo anche perché pogba al psg sarebbe arrivato probabilmente d'estate inoltrata ecco risolte determinate situazioni interne quindi la juve su pogba e di maria ha lavorato bene io dico anche che ci sia stata una distorsione nel racconto giornalistico ci hanno raccontato sempre di queste 24 72 ore ed è lì che è nata l'impazienza del tifoso di avere subito di maria a casa io credo che in realtà i patti erano abbastanza chiari fin dal principio di maria avrebbe deciso quasi nel finale delle sue vacanze se riprendiamo le sue parole nell'ultima partita del psg disse esattamente questo e quindi credo che anche il racconto giornalistico abbia portato la tifoseria juventina a spazientirsi tanto su questa trattativa e andar contro anche una dirigente che insomma era lecito ragionando su ciò che leggiavamo dire ma questi qua stanno qui ad aspettare di maria all'infinito abbiamo un piano b si è parlato poi di berardi in mezzo però dai tutto sommato questo weekend ecco arriveranno queste visite mediche io sarò lì a testimoniare ci vado ovviamente per questi due colpi ceci conto e quindi speriamo bene sono contento sono contento per questi due colpi sono contento sono colpi che innalzano la qualità tanto anche secondo me ha influito un pochino il fatto non soltanto di di campos e leonardo ma anche il discorso di di pocettino anche mbappé il rinnovo pesante economico quindi il paese in germen che poi d'altro bisogna anche vedere se comunque manterrà le parole al che life quindi questo discorso di spending review da parte delle di un paese in germen che adora è schiavo degli ingaggi faraonici perché si vogliono liberare di nemmar però questo è il problema o delle squadre che danno i top ingaggi ma di contro e la juve lo sa bene col discorso di ramsi di rabbiò è il classico problema dei parametri zero che tu vai spiegare su un cartellino dai più di ingaggio e poi ovviamente c'è il classico procuratore che va a fare un po il mercante in fiera cioè al miglior offerente viene dato il calciatore insomma quindi anche io devo dire che sono stato un po allora su pogba se ne parlavo ormai da anni cioè è come se fosse il fidanzato della juve che poi si sono lasciati e che dopo un pochino flertavano stava col compagno però gli lanciavi l'occhiatina quindi un pochino sul discorso di di maria io sono stracuriosi in italia anche io e la juve credo che abbia operato bene da questo punto di vista perché quanto pare non gli daranno un ingaggio netto di 7 milioni ma sarà vicino ai 5 e mezzo 6 ci sarà una parte variabile più ampia in base agli obiettivi che raggiungere in stagione e quindi il problema del dopo il mondiale il ragazzo come reagirà giocherà bene o se ne fregherà sarà già con la testa lì a rosario eccetera beh io credo che l'incentivo economico sia stato messo nella parte variabile proprio per scongiurare questo fatto quindi anche dal punto di vista dell'ingaggio credo che abbia lavorato abbastanza bene la juve aggiungo sul psg una cosa secondo me vogliono cambiare proprio tradizione modo di lavorare mettendo campus all'interno del della società perché prima facevano delle squadre di figurine essenzialmente con leonardo non c'è stato un metodo non è un'applicazione continua di crescita dal punto di vista societario e dal punto di vista che ne so ti faccio un esempio il siti quando è arrivata la proprietà catariota investito una marea di soldi portando esatto portando pochi risultati poi lì è arrivato soliano che un direttore cioè un direttore generale con le contropalle ha messo guardiola e ha dato metodo di lavoro avevano anche bighieristan e avevano bighieristan bighieristan è un altro è il direttore sportivo quello l'amministratore delegato tipo no il soriano fatto anche un libro che è introvabile io sto cercando di fare non lo so lo sto cercando ovunque non si trova neanche sul libraccio neanche di seconda mano chi ce l'ha quel libro se lo tiene c'è un libretto di soriano che spiega molto molto bene la gestione societaria l'atto amministratore delegato sarebbe stato molto bello un po vedere un po questo questo aspetto vedere la sua testimonianza da quel ruolo ha dato metodo e credo che campus sia lì proprio per cercare di creare un metodo di lavoro continuativo ed è un qualcosa che manca il psg ha fatto e disfatto fatto e disfatto negli anni portando pochi risultati si territorio nazionale molto bene in europa diciamo poco e nulla ancora per la quantità di denaro spesa per quanto riguarda la juve ripeto tornando invece i parametri zero su poco ma sono d'accordo con te c'era questa ammicamento continuo negli anni e però dai alla fine alla fine è arrivato e sono contento così credo che anche a lui serva un'esperienza un ritorno nella sua comfort zone che non significa adagiarsi dal punto di vista dell'ambiente delle ambizioni del vincere ma significa ritrovare quella dimensione che ti ha fatto performare al meglio e quindi credo che sia stata questa la necessità la necessità principale di pull a bill pogba dopo un'esperienza agrodolce a manchester perché tanti la reputano estremamente negativa se poi andiamo anche là a contestualizzare il pogba in quella squadra è stato uno dei più performanti in termini di produzione offensiva quindi ha fatto il suo in un contesto assai problematico e il problema non era solo pogba diciamoci la verità assolutamente no anche perché dopo l'audito di ferguson un po' di problemini a manchester sponda united ci sono stati volevo affrontare con te anche uno un tema caldissimo quindi facciamo anche una sorta di di attualità no zaniolo che io a quanto so in primi su un'idea te la sposo totalmente perché giustamente io stiamo anche i tuoi video ed è il discorso rapporto qualità prezzo il fatto che sono 99 con due crociati alle spalle allora io su questo aspetto ti dico ero preoccupato perché sono ignorante in materia non so come ti ti porta a lavorare la rottura di due crociati se metti la gamba meno più che altro tanti dicono che sia più un fattore psicologico ma la gamba riprende normalmente con l'avanguardia chirurgica dei tempi d'oggi discorso è diverso e per del piero tanti mi dicono è ma del piero un po' ha perso sì ma stiamo parlando del 98 ragazzi c'è la medicina in 30 anni 25 anni sviluppa nuove metodologie nuovi metodi di lavoro e va avanti migliora in realtà per zaniolo mi hanno detto che una soffiatina l'ho detta ieri in live anche è una soffiatina che mi è stata fatta da una persona di cui mi fido il ragazzo ha sostenuto delle visite mediche in una clinica di carrara proprio per fare dei test sulle gambe per capire quanta resistenza abbiano le ginocchia e le ginocchia banalmente sono a posto il grosso problema di zaniolo era legato a questa caviglia che gli ha dato nuie per tutto quest'anno tant'è vero che non ha fatto a vacanze questo ragazzo è rimasto nella costa ligure vicino alla spezia dove lui abita con la famiglia e ha fatto una serie di lavoro personalizzato in spiaggia seguito da un preparatore proprio per rafforzare migliorare questo aspetto le visite anche quando detto che il problema c'era ma era in via di risoluzione dal punto di vista fisico uno come zaniolo credo io sono ignorante ed evito però tanti dicono che l'aumento importante della massa muscolare porti il ragazzo ad avere dei continui delle continue nuie probabilmente dovrebbe snellirsi un po e perdere un po di massa magra anche perché per gli un po in elasticità in esplosività banalmente molti pensano che questa struttura grossa migliori l'esplosività ma c'è un connubio tra velocità ed esplosività che nel calcio è importante e se tu hai una massa muscolare importante l'esplosività continua in uno sforzo continuo come il calcio secondo me ti porta ad essere soggetto di continui infortuni quindi questo è un aspetto che va tenuto conto l'aspetto fisico sicuramente è pericoloso ma io ti dico che l'operazione nei costi di per sé è abbastanza vantaggiosa è un po alla Bernardeschi anche Bernardeschi aveva dei costi ma io credo che la resa di zaniolo possa essere di gran lunga superiore a quella del berna ecco il berna che tra l'altro potrebbe raggiungere i segni crescito e attenzione quindi ma io io ragazzi faccio un paio di di ragionamenti sul livello del calcio italiano cioè Bernardeschi nella nazionale che non se lo caga nessuno e va a finire a toronto è indice del fatto comunque che certi giocatori non siano appetibili per il mercato estero e stessa cosa vale per di bala eh c'è di bala di bala là ci sono anche altre grane però non vedo tutta sta folla di squadre che fanno pugni nescano aste per accaparrareselo due ragionamenti dobbiamo farceli guardi adesso ti faccio due esempi riguardo il discorso delle delle cose muscolare e poi torneremo a di bala di bala ragazzi se vedi a farci un libro e Soriano forse ci chiedere le copie allora allora il discorso facciamo un baratto lui ci dà il suo visto l'introvabile ragazzi Soriano e scuciami mio libro por tu libro allora riguardo il discorso del giustamente che hai fatto tu ti dico io quando sono stato per qualche giorno anni fa quando sono nel mio percorso lavorativo avevo trascorso dei giorni in una delle più grandi delle più affermate cliniche italiane per quanto riguarda il recupero degli infortunati che che all'epoca stava a Guastalla che era gestita dal professor Bosco che lui ha lavorato per il preso in Germen per Juventus all'epoca di Conte all'Inter e ti dico io ho visto anche un po' di ecografie e mi sono un pochino confrontato giustamente con lo staff medico e ti dico per quanto riguarda il muscolo da valutare sono tanto generalmente parlando non parlo proprio di Zagnolo il discorso di grado di lesioni che il giocatore ha avuto durante la sua carriera nel senso che se io ho 18 anni mi prendo un bello strappo muscolare di grande entità è normale che poi si forma una cicatrice una cicatrice che in fase di formazione del muscolo ti va a incidere ci possono essere problemi di ricadute ecco perché giocatori magari anche giovani 17 18 anni che hanno avuto degli strappi clamorosi o anche 19 20 difficilmente un club ti fa un investimento molto ingente perché giustamente c'è un muscolo che è segnato per quanto riguarda la crescita muscolare invece ti porto due esempi che diciamo avvalorano la tua tesi quindi quella che non è detto che più sei muscoloso più diventi forte perché poi diventi pachidermico due il primo è pato pato quando mise massa muscolare la saudade du brasil di pato via è finito e secondo l'hai detto tu la secondo il berna perché ti ricordi quando era al crotone che era un centro magro e chi lo prendeva al berna poi ha cominciato un lavoro di crescita muscolare di riempimento muscolare in gergo e cosa è diventato guarda io su questo aspetto io mi sono confrontato con qualcuno mi dicevano che è bene rafforzare i muscoli e ingrandirli qualora ci fossero dei problemi legati alle articolazioni esatto tendini cartilaggini particolari e sì sì ma anche le ginocchia le ginocchia per i per i legamenti e quindi credo che zaniolo visto considerati due crociati lo abbiano ingrossato per rafforzare tanto le ginocchia perché era uno che per movimento magari per coordinazione era uno che era propenso a quella tipologia di infortuni in questo modo si tutelano un pochettino però c'è il contro rischio altrettanto di avere delle lesioni sul lungo medio periodo anche qua esatto perché poi se poi un infortunio non viene curato bene ricaduta 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 soprattutto per i giocatori della fisicità di zagnolo perché anche di miral ha avuto parecchi problemi con sta storia sì sì le ricadute e infortuni sono cose molto grave e poi detto hai parlato anche di appetibilità del mercato facendo il nome della gioia di paolo dibala come mai una ragazza così tanto bella nessuno se la fila perché i genitori sono dei rompi coglioni i genitori in questo caso no il procuratore secondo me ragazzi è pessimo c'è uno come dibala gestito da un procuratore serio avrebbe già squadra il suo talento la sua forza la sua ma probabilmente sarebbe ancora la juve con un altro procuratore perché quel rinnovo lo avrebbe firmato già tempo addietro non staremo qui a parlare ama di bala out di bala in su di bala io diverse considerazioni da fare non saprete neanche da iniziare è gestito da cani e abbiamo avuto più prove nella sua carriera dico ragazzi sinteticamente andatevi a vedere la situazione triulsi è la causa con star image come la gesti di bala di bala ha fatto delle pessime scelte per la sua carriera e mi dispiace per lui perché secondo me anche queste scelte qua hanno poi influito negativamente sul rendimento in campo in quel periodo là lo ricordo molto bene ti ricordi quell'inizio di stagione enorme di dibala aveva fatto una catterva di gol e poi dopo nella finale nella parte finale della stagione si era spento completamente aveva fatto tipo quattro cinque gol nella seconda parte in quella stagione la non mi ricordo se era 2017 2018 non mi ricordo forse 2017 2018 lui ebbe dei problemi col procuratore poi è passato a questo venditore d'auto che antun improvvisato totalmente che non poteva neanche esercitare la professione da hanno iniziato a chiedere commissioni il procuratore a quanto pare la proposta all'inter anzitempo insomma sono create delle fratture importanti tra l'entourage di di bala e la juventus non tra di bala e la juventus tra l'entourage di di bala e la juventus secondo me ti dico la mia di bala avesse affidato in quel momento la ben preciso decideva via antun prende un procuratore probabilmente la juventus avrebbe trovato una corda di basso la juventus non si è sentita di tenere questo giocatore sia per scelta tecnica magari ma anche soprattutto perché devi trattare comunque con questo con questo scemo qua e guardate che queste cose non le dico solo io ma le dicono anche le persone vicini ad altri procuratori che giudicano l'operato di antun estremamente insufficiente e non all'altezza per il talento di paolo di bala l'altra cosa che ti dico è che io non mi sono strappato le vesti cioè di bala io l'ho ammirato nei primi anni della juve poi l'ho visto giocare a sprazzi e nella juventus importante secondo me la continuità di rendimento deve essere sopra ogni cosa cioè non possiamo avere un giocatore che ha degli alti e dei picchi clamorosi e pazzeschi che ti fanno innamorare e poi dei dei down comunque per determinati momenti tanti mi menzionano la stagione fatta con sarri nvp bene esploso di nuovo negli ultimi 3 4 mesi e c'è negli ultimi mesi della stagione abbiamo avuto un dibala in ascesa però per gran parte della stagione anche la assente marturiato degli infortuni e ricordo anche che con lione poveraccio fu messo in campo da sarri e si fece di nuovo male a proposito di distrazioni muscolari e altre cose mi dispiace per paolo ma la juve fa anche bene a guardare oltre c'è la gente passa la juve rimane frase fatta ma è effettivamente ragazzi così c'è concordo in pieno e dato che ormai abbiamo parlato di dibala che è il passato ultimo argomento e poi ti faccio una domanda su una tua preferenza il discorso fagioli miretti ranocchia il discorso under 23 tu chi terresti di questi tre io rovella lo vorrei vedere in un'altra squadra perché il geno è stato in un contesto estremamente complicato premetto che io fossi nei panni della juventus cercherei di tenere il controllo su tutti i quattro i giocatori cosa cosa intendo dire che due li tengo e due li mando in prestito secco senza dare alle altre squadre l'opportunità di riscattare questi giocatori bene hai bisogno di fagioli di rovella o di chi sia io te lo do le scelte che farebbe colpo gobbo da direttore sportivo io terrei fagioli e miretti ranocchia e rovella li manderei altrove perché rovella ha giocato l'anno scorso in un contesto problematico idem ranocchia anche se ranocchia io nel precampionato dell'anno scorso l'ho giudicato tra i più pronti anche più pronto di fagioli però fagioli nel contesto in cui stava veniva valorizzato un pelo meglio il vicenza era un contesto abbastanza problematico quindi ranocchia a tante richieste dalla serie a come prestito secco quindi sarei curioso di vedere in serie a come si comporta secondo me un anno di a poche far cioè può far solo bene al ragazzo rovella idem però rovella tanti mi dicono è fortissimo o delle ho sentito opinioni molto contrastanti sul suo conto vorrei vederlo in un'altra squadra ecco perché anche il genoa cambiaso se tu ascolti le opinioni di tanti tanti hanno opinioni differenti ma credo ripeto che il contesto genoa l'anno scorso sia stato molto problematico cambio di allenatore in corso underperforming di tanti giocatori per cui secondo me quei giocatori vanno valorizzati infatti tanto tanto è vero che la juve non sta affrettando i tempi nel dare in prestito questi ragazzi perché vuole valutare anche la bontà dei progetti delle altre squadre per capire come inseriranno questi giocatori come li valorizzeranno giustamente perché spesso la juventus ha dato giocatori a squadre di a che hanno queste squadre hanno utilizzato poco quei giocatori faccio l'esempio di dragus in uno di quelli dell'anno scorso che non è che abbia giocato tantissimo ci si aspettava sicuramente di più ma anche muise che quando fu prestato al verona ricordo che giocò nel finale di stagione per gran parte della stagione veniva utilizzato solamente come ricambio nel finale di partita e non riuscì a esprimersi quanto probabilmente la juve avrebbe voluto quindi vediamo io comunque terrei sicuramente miretti perché secondo me miretti è veramente forte interessante e fagioli lo vorrei vedere come alternativa qualora la juventus arrivi alla cessione di rabbio secondo me lì a sinistra nel ruolo di mezzala come alternativa a pogba ogni tanto ci può stare perché un giocatore secondo me molto bravo in ultimi 30 metri nella rifinitura secondo me ranocchio potrebbe essere un ottimo acquisto per la sernitana e penso che nicola lo potrebbe aiutare tanto a migliorare secondo me poi nicola è bravo in questo molto quindi potrebbe essere un'opzione comunque anche il discorso di io personalmente mi auguro che il futuro tante squadre opteranno per il progetto under 23 perché importante e non è soltanto importante secondo me per un discorso plus valenze l'ha detto anche fagioli era bella l'under 19 ma il vero salto lo fai passando all'under 23 che è anche una serie c però tu in serie c hai o allo stato attuale delle squadre che sono composte da giocatori db giocato ex giocatori di serie a che stanno svernando piano piano però puntano sempre a vincere puntano a salire in serie b perché lo stacco anche d'incasso delle squadre dc costruite per vincere sono delle belle squadre che puntano a prendere poi 6 milioni l'anno per i diritti tv che buttali via per una squadra magari di una piccola città e quindi la il ragazzo ha conosciuto la competitività ha giocato con giocatori di esperienza che hanno maturato certe esperienze e quindi giocare contro più che altro ti fa crescere tanto di te mentalmente tanto nello stacco è normale è normale come giocare con un in un torneo di calcetto io faccio sempre l'esempio banale finché giochi con i tuoi pari e sei sempre a quel livello difficilmente avrai della crescita però se vai a giocare contro uno anche che è giocato a livelli alti che non corre più magari come una volta che non è performante dal punto di vista fisico cazzo vedi il gioco in un'altra maniera ma dico anche se vai a giocare da calcetto col gruppo di amici e ti inserisci in una squadra di calcio a 5 vera che gioca a livello agonistico magari non giochi però nei meccanismi nei movimenti nella crescita nella comprensione del gioco migliori tanto e la serie c è una bella palestra d'adattamento al calcio professionistico quindi secondo me è un gran progetto l'ander 23 la cosa che dicevamo è che non deve diventare un plus valenzificio fine a se stesso deve diventare qualcosa di incastrato alla prima squadra la prima squadra deve avere sempre quei tre giocatori in rosa provenienti dall'ander 23 questo deve essere il continuum che deve esserci tra l'ander 23 e la prima squadra quest'anno a quanto pare sia probabilmente il primo banco di prova e io sono molto contento ma tanti ragazzi dell'ander 19 sono anche interessanti e ho visto diversi giocatori anche arrivare lì alla finale di hot league che è veramente interessante che è un bel vivaio poi li vedo lì c'è l'ander 19 under 23 e poi si può vedere ultima domanda da qui a fine mercato un giocatore che prenderesti udoggi udoggi perché tanto il centrocampo udoggi e parede sono i due che secondo me mancherebbero alla juve per completare la rosa anche costic per c'è sono questi tre però ti dico secondo me la priorità tra i tre io te la do proprio lì nel terzino a sinistra perché secondo me con alexandro pellegrini va via c'è cambiaso però d'oggi cambiaso secondo me italiani udoggi molto promettente cambiaso molto promettente e la secondo me la juve farebbe un bel un bel ricambio mi ha stupito oggi dal punto di vista dei numeri anche aveva avuto numeri importanti e anche molina c'è non ha però sì il terzino sinistro è un mio lo stai già il terzini guarda la juve dopo cansello che io ero innamoratissimo di cansello a me piacciono i terzini così che tralasciano qualcosa magari a livello difensivo e con le giuste contromisure si può anche ovviare a una mancanza difensiva di un terzino però quel qualcosa che ti danno in più in fase offensiva spesso risulta determinante ricordo un cansello che a ronaldo gli ha dato un miliardi di assist in quell'anno anche contro l'atletico madride c'è un assist di cansello tanto per e guarda anche 30 alexander arnold robertson questi giocatori qua in quel contesto hanno una determinata resa bravo in quel contesto io come dico sempre in il dubbio che io c'ho su robertson e sempre il discorso che il terzino deve anche sapere difendere e come deve difendere alexander arnold beh penso che danieleo della prima volta sia anche migliore secondo me possiamo abbiamo sviscerato begli argomentini e ci siamo anche un po' trattenuti perché sono veramente qui c'era da fare due live in due capitoli quindi lello ti ringrazio tantissimo per la presenza spero di averti presso il canale anche per parlare insomma di juventus e anche di calcio estero perché voglio ricordare una cosina che signor corpogobbo seguitelo perché un po' di progetti interessantini io ovviamente non ve li spoilerò anche perché non sono cose che che non dovrei parlare di progetti di altri però vedo seguitelo perché ha molti progetti interessanti il canonello e beh dai qualche viaggio con la community a vedere anche qualche partita extra juve qualche partita importante puntavo tanto a manchester city united ma credo che ci siano tante difficoltà perché paradossalmente andare a vedere quella partita è più difficile rispetto a una partita di champions del city questo ci fa capire anche la percezione della del insomma dei tifosi inglesi sulla champions rispetto alla premier è più importante la premier rispetto alla alla champions league però sì delle trasferte europee di partiti interessanti ho trovato un canale per poter accapparare qualche bigliettino così e organizzo delle trasferte con la community di abbonati ed è questo essenzialmente il progetto e anche qualcosina di juve forse riusciamo a combinarla qualche trasfertina all'estero e quel che volevo fare io uso il canale online per vedereci poi offline anche se le piattaforme ci inducono a dover rimanere sempre chiusi a fare eh contenuti così io preferisco poi trovare un momento per vedersi dal vivo e vivere determinate esperienze dal vivo per cui ne approfitto speriamo che il covid che tutte le le questioni così ci lasciano un pelo in pace che ci consentano di vivere la vita tranquillamente come in passato e di vivere di queste esperienze che quello che secondo me la gente ha più bisogno dopo questi anni un pelo così ecco sì anche perché poi ti dico giustamente il discorso online offline dovrei o a fine agosto o in settembre o a settembre inoltrato venire dalle tue zone ah dai allora fatti sentire tanto è il mio numero quindi mi raccomando iscriviti al mio canale iscriviti al canale di colpo gobbo vi mando un abbraccione e quindi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao